L'incoscienza dei 15 anni per raccontare una sezione con un cerco attino, ma grande coraggio, si dovranno mettere tanta porta, tanta grigia, come il suo compagno Luca Persigilli, numero 567, il suo papà, mio avversario, quando eravamo più giovani nelle piste di motocross fuori dell'enduro con il 566, tutto graziani, altro nostro importativo. Grazie a tutti. Il messaggio per il ragazzo del cinquantino, devi scoppiarlo quella moto lì, però dobbiamo anche conoscerti, perché sei diventato il nostro idolo. Esatto, se te non passi non vado a casa. Allora, quindi, spero che guardi la p***a pagina. quello col cinquantino, il polvetto, ci dobbiamo vedere, scrivici. Allora, abbiamo capito che Luca, noi siamo al cross test di Cadellai, ti aspettiamo, fai urlare il tuo cazzo di cinquantino, lo so che non lo vedrai subito, il video, ma quando lo vedrai, ti rai, cerca di dare del gas. Deba! Celera! Daghe Luca, daghe! Gag, gag, gag! Gag, gag, gag! Gag, 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 gag! Gag, 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 gag! E cry! Gag, 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 gag! Gag, 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 gag! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione